Allora, qui è lo che ora sono, sono le quattro meno un quarto, e la partita è finita, quella la Germania contro la Serbia, guardate, questo è il risultato dopo la sconfitta della Germania. Ecco i tedeschi, vedete, c'è quello con la maglietta della Germania, poverini. Un commento tuo? Pili, per noi ce l'hanno. Ma sei un bastardo, ogni cosa che hai detto a tu è successo, questi tedeschi ti uccideranno, se sanno che tu quello che hai detto, hai detto pure che il close prendeva la carta rossa e gli è successo veramente. Piove sul bagnato, guarda, la pioggia porta fortuna, si dice, sì, per i serbi, e com'è? Non stanno festeggiando. In Serbia c'è il sole oggi, sono 50 gradi. Finca come festeggiano questi tedeschi, ma che bello. Finca come cosa, mamma. Ma sono morti, ma che è successo? Non ho mai visto una cosa da genere.